Benvenuti a questo nuovo ciclo di esplorare i confini. Qual è il significato di questa insistenza, vi chiederete voi? Il significato è quello di mostrare proprio come nel momenti più difficili bisogna saper fare affidamento sulla propria creatività e spirito d'iniziativa. Questa è stata la nostra scelta, in un momento di crisi come quello dettato dalla pandemia, rilanciare un discorso più ampio e innovativo. Quindi questa nuova serie vi accompagnerà per tutta la primavera e nei mesi finali di questa crisi sanitaria. Bene, si inizierà parlando del Carnevale di Fano, della sua storia secolare, poi si toccheranno temi come le onde gravitazionali, l'origine della vita nel cosmo, la vita e l'arte di un grande musicista John Cage, di Nietzsche e di Wagner, di Domenico Modugno, di Fake News e della salute di Gacciaiai Alpini, dell'arte giapponese e del suo influsso sulla pittura europea dell'Ottocento. Vi invito quindi ad ascoltare, a partecipare e se il discorso portato avanti vi piacerà, a collaborare con il Circolo Biantini e sulle sue iniziative. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Benvenuti a questa nuova puntata di Esplorare i confini, una produzione del Circolo Bianchini. Siamo oggi per parlare di fake news e infodemia con la professoressa Lorusso, che ringrazio di essere venuta. Lei è professoressa di semiotica all'Alma Mater di Bologna, si occupa principalmente di analisi della cultura e retorica dell'informazione. Nel 2018 ha prodotto questo libro per la terza post-verità proprio su questo tema. Oggi siamo qua per parlare di fake news e infodemia e io inizierei con un breve escurso storico per cercare di capire se questo è un fenomeno radicalmente diverso, radicalmente nuovo, oppure qualcosa che ha occupato la storia del mondo aborigine. Ecco, la risposta che io mi do è probabilmente che sia sempre esistito. Mi riallaccio un po' al discorso che fa Luciano Canfora quando parla di Pausania del re di Sparta nel V secolo e dice che il re Pausania, sostanzialmente a causa di una finta lettera che questo re avrebbe inviato al re di Persia e Serse, sarebbe stato per l'appunto portato a morte perché in questa lettera, come abbiamo detto falsa, che ci riporta Tucidide, Pausania voleva tradire Sparta. Ecco, già siamo di fronte a un esempio di fake news che genera addirittura morte. Altri esempi di fake news nella storia, ad esempio, di Roma, mi viene in mente Augusto che durante la guerra civile, nello scontro tra lo stesso Augusto e Antonio, per polarizzare l'opinione pubblica romana contro il suo antagonista, sostanzialmente andava a dire, andava dicendo che Antonio volesse trasferire la capitale di quello che poi sarebbe stato l'impero ad Alessandria ed evidentemente questa retorica, questa finta retorica ha funzionato. Un'altra grande, chiamiamola, balla, che mi viene in mente, è la donazione di Costantino. La donazione di Costantino, peraltro riguardo alla donazione di Costantino, siamo anche di fronte, non so se il primo, ma sicuramente il più eminente esempio di fact-checking fatto da Lorenzo Valla. Questa donazione di Costantino, lo brutalizzo e lo semplifico, sarebbe stata questa legge che Costantino avrebbe fatto nella quale lui sostanzialmente legittimava il potere temporale della Chiesa e poi Lorenzo Valla in epoca umanistica l'aveva smentita. Se andiamo invece alla contemporaneità, pensiamo al KGB, che addirittura aveva un suo dipartimento chiamato Dipartimento D che si occupava per l'appunto di disinformazione, faceva solo questo. E fra queste attività che il Dipartimento D ha portato a termine, ce n'è una, secondo me molto interessante, perché si collega proprio a quello che sta succedendo ora con il coronavirus. Cioè il Dipartimento D, siamo a ridosso degli anni 80-90, in America sta scoppiando l'epidemia di AIDS e cosa fa? C'è un piccolo giornale locale di New Daily che è sovvenzionato da soldi sovietici. I sovietici si informano sul fatto che in una piccola cittadina del Maryland si portano avanti esperimenti di armi batteriologiche. Allora passa la notizia a questo giornale locale chiamato il Patriot di Daily e dice in America, nella città, in questa città del Maryland, stanno portando avanti esperimenti su armi batteriologiche. L'AIDS è stata creata in questi laboratori. E da lì poi è scoppiata questa finta leggenda, questa fake news che ha goduto di una certa credibilità. Ecco, quindi probabilmente questo non è un fenomeno nuovo. Però la prima domanda che le volevo fare è se, come abbiamo purato, non è un fenomeno nuovo, sono forse nuovi i mezzi di cui queste fake news dispongono. E questo cambia solamente il bacino d'utenza di queste fake news che si amplia oppure cambia qualcosa proprio nella dinamica della fake news? Bene, buongiorno, grazie innanzitutto di avermi invitata. Certamente lei ha fatto una disamina dei precedenti storici di fake news che è indiscutibile, che è sotto gli occhi di tutti e su cui gli storici hanno già indagato. Non c'è dubbio che la manipolazione dell'informazione da parte dei regimi politici è sempre esistita e mille sarebbero gli esempi, alcuni dei quali, come lei ha detto, assolutamente di straordinario rilievo. Ciò detto, io credo che oggi siamo di fronte a un fenomeno in realtà sostanzialmente diverso. È diverso non solo perché si è allargato il bacino dei destinatari, ma perché proprio è cambiata in un certo senso la sintassi di questa dinamica. Che cosa intendo? Tutti i fenomeni precedenti erano fondati su un modello, diciamo, di comunicazione che era uno a molti. C'era un soggetto istituzionale, un soggetto di potere che decideva, programmava una notizia falsa a fini strategico-manipolatori e questa notizia falsa si diffondeva fra un insieme di cittadini o di sudditi o di persone anche per generazioni e generazioni, penso alla donazione di Costantino, che la ricevevano nel ruolo di destinatari. Oggi è proprio questa organizzazione quella che è saltata, perché non abbiamo più una comunicazione fondata sulla relazione uno a molti, ma abbiamo una comunicazione fondata sulla relazione, vorrei dire, tutti a tutti potenzialmente. La vera rivoluzione nei mezzi di comunicazione di oggi è quella del cosiddetto web 2.0, che sembra un tecnicismo, ma tutti ci siamo assolutamente immersi e tutti ne godiamo, che consiste nel fatto che qualsiasi utente di un mezzo di comunicazione internet o social può diventare produttore di informazione, non devi essere più una testata giornalistica, non devi essere più il Dipartimento D del KGB, non devi essere più Costantino, per diffondere e diffondere con una potenzialità di diffusione enorme una notizia che è falsa, che è strategicamente pensata a qualche fine. Questo ovviamente rende tutto quanto infinitamente meno controllabile e naturalmente anche infinitamente, diciamo così, più pericoloso, perché un singolo soggetto di potere è certamente pericoloso, quando i potenziali soggetti di potere diventano infiniti o comunque in un numero indeterminabile il rischio di diffusione di informazioni completamente non corrispondenti a realtà è davvero molto alto e ciascuno lo può fare per gli obiettivi ovviamente più disparati e quindi diventa veramente un fenomeno a rischio di incontrollabilità, per cui secondo me siamo di fronte a qualcosa di molto diverso dall'epoca precedente. Io, ricollegandomi anche a quello che scrive nel suo libro, vorrei anche parlare di come, cioè se noi capiamo bene quali siano le istanze che motivano una scelta di manipolazione delle informazioni da parte delle istituzioni, siano esse più o meno democratiche, però a livello politico sono chiari gli intenti. Però quello che forse è più interessante è capire la relazione dell'individuo, della singola persona, con la fake news, cioè perché il singolo crede a questa fake news e le vorrei chiedere secondo lei ci stanno alla base istanze psicologiche o mancanza di capacità critica, mancanza di alfabetizzazione anche digitale. Ma direi un po' tutto, però voglio partire da una citazione che viene proprio da un convegno recentissimo nei due giorni precedenti a Bologna, avevamo organizzato un convegno sul falso e sulle varie accezioni che la categoria di falsità può assumere in vari ambiti, quindi l'ambito giuridico, l'ambito storico, l'ambito informatico, l'ambito comunicativo, eccetera. Fra i relatori invitati c'era un professor Ferretti, che è professore merito alla Normale di Pisa, che si è occupato soprattutto di falsi d'arte. E lui ha iniziato il suo intervento con una affermazione per cui, come dire, diciamo, per usare un'espressione colorita l'avrei voluto abbracciare, anche se era tutto avveniva online, per chi ha detto il falso, stava parlando del falso d'arte, risponde a una domanda sociale e culturale. Non c'è produzione del falso se non c'è questa domanda. E io sono assolutamente convinta che questo avvenga anche nell'ambito del falso informativo. Non è solo che ci sono i falsi Picasso perché c'è una domanda di Picasso, ma anche i falsi che girano nel nostro sistema informativo in qualche modo rispondono a una domanda, a una richiesta. In che senso e quale può essere la domanda a cui rispondono? Secondo me, ovviamente la risposta sarebbe molto complessa, non ho certo una risposta esaustiva, però certamente un'ipotesi che mi sembra da percorrere è considerare il fatto che molto spesso le fake news, in particolare ad esempio tutte quelle che fanno riferimento poi e sono tangenti o parti di teorie del complotto, in questi mesi c'è stato tutto il caso qui è negli Stati Uniti, che è veramente una storia che sarà da studiare in futuro. Tutte queste fake news fondamentalmente rispondono anzitutto a un grandissimo bisogno di spiegazioni, di conferme, di sicurezze. Cioè io credo che oggi viviamo in un mondo che è abbastanza oggettivamente molto molto più complesso del mondo in cui hanno vissuto i miei genitori e prima di loro i miei nonni, per fare un discorso di generazioni. In questo mondo che è molto più complesso, perché dico che è molto più complesso? Perché siamo sottoposti a molti più stimoli informativi, ci muoviamo in un orizzonte ormai che è assolutamente mondializzato e non locale, quindi ci sono molte più dimensioni da tenere insieme. In questo mondo che è così tanto più complesso diventa ancora più forte il bisogno di avere, come dire, delle spiegazioni e delle conferme che ci orientino nel mondo, che in qualche modo lo semplifichino. E io credo che molte fake news servono proprio a semplificare la complessità e funzionano su un meccanismo di conferma. Cioè una fake news non è mai completamente incredibile. C'è sempre una componente di credibilità, di plausibilità, cioè si attacca, è parassitaria, a un nucleo di contenuti, diciamo così, che in realtà sono condivisi e condivisibili. A partire da quello quindi si genera qualcosa di spurio che però va a confermare, appunto era molto più rassicurante per noi pensare che il coronavirus, per stare su argomenti che ci riguardano direttamente, fosse il prodotto dei laboratori cinesi per azzerare l'Occidente. Sarebbe una spiegazione geopoliticamente comprensibile, avremmo un colpevole, potremmo immediatamente, come dire, programmare una reazione. È molto più difficile da accettare il fatto che le pandemie accadono, punto, e quindi in qualche modo vanno gestite ma non ci sono colpevoli. Ma infatti, secondo me, riguardo a questo argomento, un fattore sostanziale senz'altro è quello della globalizzazione. Noi siamo in un mondo in cui c'è una forte polarizzazione, un forte contrasto tra quello che è il mondo locale e il mondo globale, quello che gli antropologi sociali definiscono il mondo della vita e il sistema mondo. E per quanto riguarda il coronavirus abbiamo un esempio magnifico, terribilmente magnifico, nel senso che qualcosa che è successo a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, le cause di qualcosa che è successo, ce l'abbiamo poi nella nostra quotidianità, è invaso la nostra quotidianità e una cosa, secondo me, anche a livello politico, problematica, cioè di questa relazione tra un mondo molto complesso e la ricerca di risposte immediate e semplificanti sono la risposta politica dei populismi che è cavalcata da più o meno tutte le destre e se pensiamo anche Donald Trump ha fatto questo e io le volevo chiedere un po' come vede anche a livello politico questo problema di cause molto lontane per una realtà molto vicina e la reazione al non voler spiegare, al non voler abbracciare la complessità ma ridurla. Sì, penso che appunto questo sia un problema cruciale dei nostri tempi a livello politico, culturale e poi ovviamente tutto ciò passa o si traduce nella comunicazione. Certamente i populismi sono una forma di gestione del potere che appunto va completamente nella direzione della semplificazione e questa semplificazione è fatta appunto di polarizzazioni molto forti di manicheismi molto forti per cui i populismi non hanno esitazioni nel definire appunto i buoni e i cattivi le responsabilità le colpe la semplificazione però va anche in un'altra direzione che è quella dell'individuazione dell'uomo forte che in qualche modo si assume l'onere di intervenire e di risolvere la situazione che è una tendenza secondo me anche abbastanza paradossale perlomeno oggi nel senso che la nostra storia occidentale arriva nel secondo novecento dalla crisi dalla negazione dal dramma degli uomini forti e quindi sembrava qualcosa che fosse ormai da rifiutare per sempre invece appunto in questo momento c'è un bisogno di delega appunto di semplificazione e di intervento e secondo me di nuovo l'infodemia la cosiddetta infodemia ha messo in primo piano una dinamica molto significativa che appunto ha reso molto evidente ma appartiene più trasversalmente a mio avviso alla gestione come dire delle cose e del sapere noi appunto in una situazione complessa e anche problematica dolorosa come quella della pandemia non solo avremmo tanto bisogno appunto di spiegazioni certe di colpevoli ma non riusciamo assolutamente per così dire ad accettare che la cifra di questo periodo sia l'incertezza cioè noi abbiamo continuato a sentire da più parti innanzitutto tante opinioni tra loro contrastanti anche le opinioni della scienza tra loro contrastanti e dall'altra parte per converso tanti giudizi di condanno adesione per cui ci sono quelli che sono più colpiti da un certo medico in televisione e quelli che seguono più un'altra posizione e viceversa si è detto pochissimo e questa è una responsabilità dei media credo oltre che degli scienziati che sono andati in televisione che è assolutamente fisiologico è inevitabile che in questo momento anche le opinioni della scienza possano essere in contraddizione che quindi ci sia un'incertezza un'insicurezza con cui fare i conti un anno fa ci dicevano che forse le mascherine non servivano niente adesso ci dicono che assolutamente dovremo continuare a portare le mascherine anche per tutto l'anno anche quando saremo tutti vaccinati c'è milioni hanno ragione adesso no non è una questione di colpe è il fatto che si è stratificato un sapere questo è difficilissimo da accettare cioè questa incertezza del sapere per noi è molto difficile prima era più facile no prima semplicemente per prima intendo cento anni fa semplicemente non veniva percepita perché appunto la comunicazione le comunicazioni non erano così facilitate per cui quello che arrivava ai miei nonni era come dire qualcosa di parziale ma abbastanza univoco e quindi era più accettabile oggi invece noi abbiamo l'esposizione di tutti questi punti di vista e quindi siamo messi di fronte alla contraddittorietà delle cose ma appunto il mondo è contraddittorio questo è il punto secondo me lei ha toccato un punto fondamentale cioè che la verità ammesso che poi si possa raggiungere mai la verità anche perché come è evidente la verità non è qualcosa in monolitico e fermo ma è qualcosa che procede cambia però almeno un'approssimazione a questa verità un cammino d'avvicinamento a questa verità è un cammino faticoso un cammino fatto di messa in discussione di smentite di essere in grado di mettersi in discussione costantemente però quello che le vorrei chiedere è soprattutto di dialogo di dialogo autentico reale un dialogo che appunto costruisca insieme un terreno comune di conoscenze però quello che le vorrei chiedere secondo lei noi stiamo ora anche ricollegandomi alla risposta politica dei populismi stiamo pubblicamente politicamente cercando la verità o il nostro concetto di verità è slittato lei nel nel suo libro fa un'analisi secondo me molto intelligente cioè dice la verità è cambiato il modo in cui il senso che noi diamo alla verità la verità è passata da diventare oggetto a diventare modo la stessa differenza che c'è tra dire la verità e dire veramente e lei che cosa pensa? sì io credo che oggi viviamo con una categoria di verità molto diversa da quella che tradizionalmente abbiamo utilizzato è una verità molto più legata all'esperienza e quindi alla modalità di affermazione diciamo così di un proprio punto di vista è abbastanza come dire invalsa l'idea che se io ho fatto esperienza di qualcosa su quella cosa ho una mia verità questo è stato dirompente ad esempio nella questione degli antivaccinisti dove tantissimi antivaccinisti anzitutto basavano la propria posizione teorica su un'esperienza personale il problema di un figlio di un familiare ora è chiaro che quelle esperienze che venivano accampate come fondamento di verità erano esperienze vissute cioè non ne metto in discussione la la realtà tuttavia erano esperienze assolutamente individuali io personalmente sono allergica all'aspirina questo non significa che l'aspirina sia un farmaco naturalmente da togliere dal commercio sono io che non la devo prendere cosa succede in questi discorsi succede appunto una generalizzazione di un dato di esperienza che appunto come tale è assolutamente individuale e che non ha alcuna significatività in termini scientifici e in termini appunto generali nel senso che per fare delle affermazioni generali che siano motivate dovremmo naturalmente come dire fare delle verifiche infinitamente più ampie in condizioni diverse insomma chi fa naturalmente esperimenti sa bene che ci sono delle procedure molto precise ecco il caso degli antivax è un caso che ha portato in primo piano secondo me questo elemento appunto di ricorso a una modalità assolutamente individuale e basata sull'esperienza per affermare la verità e questo però cosa ci conduce ci conduce al fatto che ci troviamo poi di fronte a una moltiplicazione non è incontrollabile di verità perché se ognuno di noi dice la propria e si sente legittimato a farlo ovviamente come dire la situazione diventa incontrollabile perché torno alle osservazioni di partenza ognuno di noi può aspirare diciamo così a una platea enorme di destinatari quindi non è solo la chiacchiera che io posso fare con te e rimane tra noi nel momento in cui affermo qualcosa su twitter o su facebook quella cosa può potenzialmente raggiungere molte migliaia di persone quindi l'idea di verità è completamente come dire separata da un'idea di validazione o meglio la validazione della verità sta solo nell'io sento nell'io esperito che però è una dimensione appunto assolutamente estranea quella della verità che si è sempre tradizionalmente fortunatamente basata su un'idea di intersoggettività di condivisione di validazione appunto intersoggettiva per cui credo che questo sia assolutamente un gravissimo problema a cui siamo stati comunque anche assuefatti diciamo così appunto di nuovo dai nostri media e dai media tradizionali e questo secondo me è un punto abbastanza importante da mettere a fuoco a volte quando si parla di questi discorsi la colpa sembra tutta di internet o sembra tutta dei social e magari uno si fa l'illusione che se non frequenta i social può essere immune da questo tipo di pratiche in realtà certamente i social amplificano il problema e realizzano delle come dire delle degenerazioni molto rilevanti però noi ci siamo abituati innanzitutto con la televisione a dare credito a una serie di persone che non erano esperti e chiunque può essere esperto di qualcosa quindi non è un discorso classista è un discorso però che vorrebbe credere nel ruolo della appunto della competenza cosa che invece oggi è quanto meno come dire ridimensionale legandomi a questo un problema della rete probabilmente è quello della disintermediazione e comunque il fatto che come stavamo dicendo poc'anzi persone che non hanno alcuna autorità qualsivoglia campo sono invece autorizzate dalla potenza mediatica che hanno a parlare di qualsiasi cosa vogliono e ad avere anche credibilità in merito a quella cosa e un passaggio secondo me molto importante su cui mi vorrei fermare è il fatto che probabilmente siamo passati da un passato in cui lo status cioè l'autorevolezza era conferita dalle istituzioni mentre ora l'autorevolezza e lo status è conferito può essere conferito dal social dalla rete in generale basti pensare un esempio forse un po' lontano da quello di cui stiamo parlando ora però alla sharing economy cioè ad esempio con Uber chi guida non è un tassista non ha ricevuto nessuna autorizzazione nessuno status di tassista dall'istituzione stato però nella rete sociale creata da Uber se uno dalla propria disponibilità diventa autista per quanto concerne quella realtà sociale e le volevo chiedere magari di soffermarsi su questo punto si ha messo a fuoco molto bene un problema enorme che è quello naturalmente delle competenze che dicevamo ma è anche un altro problema che l'esempio del tassista rende molto chiaro che quello che in inglese in questo caso non c'è un termine italiano quindi devo usare la parola inglese ed è significativo che non ci sia il termine in italiano è accountability cioè individuare delle persone esperte avere un registro di persone esperte che possono essere i tassisti possono essere i giornalisti possono essere gli scienziati possono essere appunto delle categorie più diverse significa non solo avere un registro di esperti ma significa anche avere un registro di persone a cui si può chiedere conto di ciò che dicono fanno consigliano con un principio di responsabilizzazione perché appunto se sei in un certo ruolo hai una responsabilità e di questo devi dare conto l'accountability è proprio il dover dare conto di quello che hai fatto ovviamente invece in una situazione a rete come quella in cui siamo come quella in cui siamo e saremo perché i sistemi funzionano così e non c'è un altro modo per il momento chiunque può sostanzialmente fare tutto e dire tutto sfuggendo completamente sia la logica della competenza sia la logica della accountability questo è un problema enorme anche a livello giuridico e si spera che almeno a livello giuridico venga come dire sanato le istituzioni anche le istituzioni europee ci stanno lavorando come sappiamo tutti noi possiamo intervenire in internet o sui social con identità fasulla cioè l'anonimato è consentito questo significa appunto che non siamo riconducibili a delle responsabilità e questo naturalmente è un problema enorme però voglio aggiungere una cosa il fatto che il sistema funzioni così e che sia appunto pratica normale quotidiana che funzioni così al punto che la maggior parte di noi neanche sanno che funziona così cioè non sono consapevoli rispetto appunto ai meccanismi di funzionamento dei social fa sì secondo me che ci sia una grandissima irresponsabilità di nuovo faccio un esempio quante volte a tutti noi perché credo che appunto nessuno sia escluso sia più puro degli altri capita di fare il retweet di un tweet che leggiamo e che in qualche modo ci colpisce quel gesto di retweet che è un gesto banalissimo noi tutti lo facciamo spesso con grandissima leggerezza cioè non è che ci mettiamo lì a pensare a cosa stiamo facendo al fatto che stiamo contribuendo all'amplificazione e a un'amplificazione che poi appunto assume una dinamica non più controllabile che magari amplifica qualcosa che è falso perché è qualcosa assolutamente di non verificato noi non abbiamo questa coscienza cioè non siamo educati e qui tocco un tema enorme ad essere consapevoli di queste di queste nostre azioni e cioè quello che voglio dire è che non è grave o potenzialmente grave solo come dire fare grandi dichiarazioni affermative ma a volte basta appunto anche solo fare un retweet perché questo rivolge e reindirizza quel contenuto magari a una comunità che prima non sarebbe stata raggiunta è così di catena in catena di comunità in comunità le cose si amplificano quindi questo problema dell'accountability è non solo un problema giuridico ma dovrebbe davvero essere qualcosa a cui essere educati nel senso della responsabilizzazione di chiunque di noi nel suo quotidiano più più così regolare impalpabile e allora di fronte a tutto questo bisognerebbe chiedersi un po' quali sono le soluzioni perché abbiamo parlato di tanti problemi e li abbiamo messi alla berlina però bisogna anche pensare come modificare quello il problema che abbiamo davanti perché è un problema molto grave perché da una parte questa disintermediazione sta minando l'essenza stessa del processo democratico e anche questa manipolazione dell'informazione l'abbiamo visto ad esempio con lo scandalo di Cambridge Analytica che sostanzialmente ha portato al potere Trump ha avuto grande rilievo nel processo di uscita dall'Unione Europea degli UK e se da una parte i giornali o comunque alcune testate giornalistiche hanno dato la loro proposta che è quella del fat checking che lei che lei poi critica e vorrei che magari spiegasse quali sono le problematiche dall'altra parte l'altro problema è che un'altra risposta è stata data dai social cioè mi riferisco in particolar modo a quello che è successo in America con Trump cioè si è arrivati a un punto in cui le cose erano talmente pericolose talmente gravi che si è applicata una censura di questo si tratta e se da una parte nel caso di Trump probabilmente era giusto probabilmente era il modo più rapido però questo segna un precedente segna un precedente inoltre queste sono aziende private quindi non c'è il pubblico che gestisce questa questo ambito che è molto problematico riguarda tutti e se per Trump andava bene io proprio ritornando alla quotidianità perché poi di fatto queste sono problematiche in cui ci imbattiamo tutti i giorni ho visto questo video su YouTube di questo ragazzo preparato quindi niente affatto complottista niente nessuna manipolazione informazione dove anzi in calce al video offriva la documentazione la bibliografia quindi una cosa seria credibile o comunque con una pervenza di credibilità e affrontava il tema della della situazione degli Emirati Arabi della loro politica e tutte le vicende che un po' sono passate alle cronache in questi giorni e gli è stato rimosso ma questo non è la prima succede tante volte tant'è che questi chiamiamoli youtuber però è un po' minimizzante secondo me chiamarli tali spesso devono evitare di dire alcune parole sono sottoposti a una vera e propria censura è problematico e qual è la la soluzione da una parte perché non va bene il fact checking e dall'altra parte chiaramente la la censura di questi social non può essere la risposta e cosa si fa? Allora mi fai una domanda molto complessa ovviamente la soluzione non ce l'ho quello che come dire so con certezza di cui sono fortemente convinta è che la situazione sia molto problematica e che si debba intervenire a tanti livelli allora parto dal discorso della censura la mia impressione è che queste grandi aziende perché tali sono di fronte al dilagare di un problema di cui anche spesso vengono come dire additati come irresponsabili o comunque come dei facilitatori diciamo così abbiano messo in atto un sistema appunto censorio più o meno automatico facebook funziona così twitter anche nel senso che date alcune parole chiave se le usi vieni bannato per un certo periodo e anche io sono letteralmente circondata da amici e colleghi che si occupano di comunicazione e che magari entrano su certi temi proprio per smontarli analizzarli e poi vengono censurati perché appunto non non capiti sostanzialmente e questo questa è una modalità innanzitutto quindi c'è una modalità di censura stupida nel senso che se ragioni solo per parole chiave e non vai a guardare il discorso puoi incorrere in enormi errori dopodiché come si può fare sui grandi numeri questo è un grande problema nel senso che è un grande problema a tanti livelli i social continuano a fare tutte o tante delle loro operazioni di analisi di quel che sui social passa solo per ricerche automatiche quantitative per l'appunto ciò di cui ci sarebbe bisogno invece è un approccio qualitativo cioè che veda le parole in un'ottica contestuale nel tessuto del discorso su questo per il momento non si è trovato nessun software che riesca a farlo in modo adeguato cioè che riesca a far intervenire un meccanismo di controllo che deve essere automatico perché sulla mole di dati che girano su twitter su facebook non è che puoi fare l'analisi del testo individuale quindi è chiaro che ci vuole un meccanismo automatico un software automatico che però abbia introiettato dei principi anche qualitativi per ora non ci sia riusciti ma spero che ci si riesca nel senso che finché si procede solo per ricerca di parole chiave ovviamente abbiamo delle operazioni che in alcuni casi sono veramente ridicole e questa è la censura che io definisco stupida poi c'è una censura più come dire mirata e motivata come quella di Trump diciamo per cui un soggetto un enunciatore viene ritenuto a un certo punto pericoloso e lo si mette a tacere io devo dire che su tutta questa vicenda Trump ho avuto rispetto a questo dibattito come dire una grande impressione comunque in un certo senso di anomalia nel senso che se vogliamo problematizzare il fatto che delle aziende private abbiano un così grande potere di influenza e consenso sulla cittadinanza bene questo è un problema enorme e credo che servano delle istituzioni e delle legislazioni sovranazionali che le gestiscano che però in un preciso specifico momento un'azienda privata decida dal suo circuito privato di escludere un soggetto è un'azienda privata che decide nel suo ambito che credo sia assolutamente legittimato a farlo voglio dire il problema monte il problema non è che abbia censurato Trump il problema è che un'azienda privata abbia un così grande potere di consenso ma nel bene e nel male non solo nella censura forse è ancora più problematico con rispetto a quello che circola quindi mi è sembrato un classico problema mal posto che però ha portato in evidenza appunto un problema molto urgente su cui forse fin qui almeno non ci si è interrogati abbastanza quindi spero che almeno il caso Trump appunto abbia dato come dire una scossa cosa si è fatto fin qui prevalentemente a livello proprio politico istituzionale e non solo a livello italiano ma anche a livello europeo e anche all'interno di queste aziende che appunto si sono posti un problema di controllo della disinformazione il grande mantra per l'appunto è diventato il fact checking che a me sembra una soluzione abbastanza ridicola non perché non pensi che il fact checking vada fatto credo che sia la base della serietà giornalistica quindi della serietà di un soggetto che diffonde informazioni quindi benissimo fare il fact checking tuttavia non penso in alcun modo che quella sia la soluzione perché il fact checking per varie ragioni innanzitutto perché il fact checking è qualcosa che interviene ex post alla fine di un processo cioè tu hai un'informazione e vai a verificarla vai a verificarne degli elementi cioè io dico che ci sono stati x milioni di vaccinati vado a controllare se quel numero che ho dato è attendibile è preciso dico che il ministro x ha detto la tale frase vado a controllare che effettivamente le parole usate siano state quelle quindi è sempre un'operazione che faccio ex post e che faccio su singoli elementi testuali questo è estremamente inadeguato insufficiente per almeno due ragioni uno che l'operazione ex post per la velocità di diffusione che hanno oggi le informazioni è assolutamente un'operazione come dire inefficace se non del tutto inutile nel senso che un'affermazione che gira in internet di solito il meccanismo della viralità fa sì che siano le primissime ore quelle in cui una certa notizia ha un impatto che tu arrivi il giorno dopo con la correzione della notizia è completamente inefficace ormai quel che doveva essere è stato fatto è fatto quindi è una soluzione inefficace da questo punto di vista è una soluzione inadeguata poi perché appunto ragiona su piccoli elementi testuali laddove la maggior parte delle volte il problema è un problema come dire di argomentazione di discorso cioè il problema non è sbagliare un certo numero laddove vada a dare una cifra ma il problema molto più rilevante è il discorso in cui quel numero è inserito e su questo il fact checking non interviene ancora una volta perché il tipo di controlli che fa il fact checking sono praticamente automatizzati e quindi di nuovo non c'è un'analisi di tipo discorsivo quindi cosa si fa quindi quello che secondo me sarebbe assolutamente necessario è una specie di educazione filologica un'educazione filologica che non abbia niente di come dire scolastico e astruso ma con educazione filologica intendo un'educazione alla lettura e alla verifica basilare di un testo cioè noi dobbiamo essere educati a porci la domanda di fronte a il tweet che leggiamo è attendibile da dove viene una delle prime domande filologiche è appunto ricostruire la tradizione del testo allora al di là appunto degli accademismi però questo deve diventare una forma mentis da dove viene questa cosa perché così riesci un po' a ricostruire la catena del già detto ed è qualcosa di fattibile cioè non è un'operazione impossibile è semplicemente però un'operazione a cui si deve essere educati dico scherzosamente ma in realtà molto seriamente a cui si deve essere educati da piccoli perché è difficile acquisire questa attitudine a 20 anni secondo me è già tardi figuriamoci dopo è un'attitudine che devi acquisire prima perché devi crescere con questa attitudine dico questo che proprio appunto mi sembra la come dire la domanda fondamentale che uno deve imparare a porsi di fronte al bombardamento di notizie che noi abbiamo poi c'è un problema anche di educazione ai media cioè noi tutti siamo immersi nei media e i bambini ormai a sei anni hanno l'iPhone e però da perfetti adulti non sappiamo come funzionano e anche è capitato varie volte come forse capita a tutti anche non so l'adolescente o il ventenne che sta ore sul suo telefonino e che in qualche modo appunto è un attivo digitale cosiddetto e che quindi ha un'assoluta consuetudine con quel mezzo per cui lo controlla e capisce risolve qualunque problema in ogni momento però la consuetudine non è una consapevolezza di come funziona quel mezzo e ad esempio il fatto che dietro sotto i social media e i motori di ricerca ci siano degli algoritmi che strutturano dei gruppi in un modo preciso e determinato cioè che non consente variazioni è qualcosa che normalmente non viene di cui non sia consapevoli o magari sai sì che ci sono gli algoritmi ma poi questo cosa significa nella realtà ecco io credo che se noi spiega anziché come dire invocare demonizzare i social o i telefonini o cercare di impedirne per qualche ora l'uso invece facessimo a scuola perché la scuola l'unico vero luogo di educazione e formazione appunto una formazione alla proprio alla consapevolezza dei media penso che questo ovviamente non dopo domani però insomma in prospettiva potrebbe cambiare la qualità della nostra interazione con questi media con cui continueremo a stare perché è assolutamente impensabile che come dire la tecnologia non regredisce semmai progredisce quindi non possiamo pensare di esimerci da questi meccanismi possiamo solo diventarne un po' più consapevoli in modo tale da non esserne come dire in qualche modo vittima ma esserne soggetti appunto consapevoli quindi mi sembra che anche ricollegandomi alla domanda che l'avevo fatto in precedenza cioè qual è il problema dell'individuo riguardo alla fake news è un problema di mancanza di capacità critica o psicologica senza altro come lei stava dicendo c'è un problema di capacità critica di contestualizzazione dell'informazione di dimestichezza con con lo strumento però a me rimane sempre un dubbio che forse fa ridere però è quello del dell'antivax del novax che fa il medico nel senso che senz'altro c'è un problema di mancanza di capacità critica però quello che penso è che probabilmente anche ricollegandomi al discorso delle tante verità che costellano il nostro reale e che di fatto lo frammentano cioè non esiste più una narrazione globale universale come magari è stato il cristianesimo come in passato come sono state le ideologie oggi non esiste una spiegazione totale del mondo una narrazione totale del mondo e l'individuo forse anche delle istanze di natura psicologica nel cercare quella spiegazione chiamiamola complottista che rimetta assieme tutti i cocci frammenti della realtà e io in questo con questo filtro è l'unico modo in cui mi spiego il medico Novax cioè la necessità di una narrazione di una spiegazione quasi che vada sopra la realtà umana sì io sono abbastanza d'accordo come dicevo prima credo che ci sia appunto una domanda di rassicurazione di certezze che è ancora più forte in un mondo che da una parte è così complessa e dall'altro ha perso i quadri di riferimento appunto famosa crisi delle ideologie è qualcosa che noi abbiamo sperimentato forse lei essendo più giovane di me forse spero è già in una fase successiva ma appunto io sono nella mia adolescenza come dire c'è stata la caduta del muro di berlino e io e quelli della mia generazione non so nessuno di noi ad esempio ha mai avuto una iscrizione in un partito eppure mediamente frequento ognuno vive nella sua bolla per l'appunto e frequento persone anche con un senso dell'impegno come dire civile che magari in un'altra epoca avrebbe trovato espressione anche in una partecipazione politica invece nessuno di noi non è proprio passato per la testa quindi ho vissuto ad esempio in prima persona questo elemento proprio di assenza delle ideologie e quindi in un mondo tanto più complesso che però ha sempre meno quadri di riferimento quel bisogno di certezze che dicevo prima svolge un ruolo fondamentale però mi lasci dire anche un'altra cosa io non so per quale pazzesca ragione appunto un medico possa essere antivax ma tendo a vederci anche una quota diciamo così di individualismo esasperato che forse è un'altra delle cifre della cultura in cui viviamo nel senso che c'è anche secondo me una certa quota di arroganza nel dire io la penso diversamente e appunto se la maggior parte del mondo pensa che appunto i vaccini facciano bene io che pure sono medico vi posso assicurare perché sono competente che invece non servono cioè questo ergersi comunque a soggetto più intelligente un po' più furbo e più acuto degli altri senza confrontarsi in realtà con gli argomenti degli altri è appunto un'altra cifra a mio avviso della nostra epoca in cui c'è un individualismo narcisista che alimenta queste prese di posizione così molto personali e che non prevede il confronto appunto con l'altra parte perché poi tipicamente l'antivax non è che si mette a discutere con chi sostiene l'utilità e l'opportunità dei vaccini gli dà dello stupido ed è definito lì il discorso che è un altro meccanismo ampiamente come dire ampiamente alimentato dai nostri social il problema noto diciamo nella letteratura su questi temi come problema del eco-chamber per cui ognuno vive in una sua come dire camera ermetica con i suoi simili cioè quelli che la pensano come lui cioè vive in una micro-comunità sempre più appunto ermeticamente chiusa rispetto alle altre posizioni e quindi è sempre più disabituato al confronto è sempre più appunto impreparato proprio al al confronto per cui piuttosto come dire chiudi il discorso di fronte a un'istanza un'istanza critica torno al discorso di prima questo meccanismo della creazione delle cosiddette eco-chambers non è un elemento psicologico è prodotto da un algoritmo e appunto forse se sapessimo che abbiamo delle strutture mediatiche che fanno sì che succeda questa cosa saremmo anche un po' più resistenti normalmente non lo sappiamo non ce ne rendiamo conto e il risultato è che non siamo più disponibili al al confronto dialettico e quindi assumiamo posizioni però mi viene in mente un'osservazione queste eco-chambers che sostanzialmente portano ad una polarizzazione delle posizioni dei vari gruppi non sono un po' in contraddizione anche rispetto alla stessa politica interna di queste aziende che applicano una diffusa e sommaria censura per proprio evitare queste polarizzazioni no secondo me nel senso che io non vedo in non ho visto nessun intervento censorio che fosse effettivamente mirato a evitare la polarizzazione cioè l'intervento censorio arriva a eliminare come dire un'espressione violenta o potenzialmente violenta che è una cosa molto più ridimensionata in realtà appunto i social vivono di polarizzazioni perché poi questi favoriscono favoriscono nelle varie eco-chamber delle delle frequentazioni delle strutturazioni di comunità dei consumi banalmente sappiamo il meccanismo del click è anche un meccanismo pubblicitario quindi di sfruttamento economico che voglio dire un'azienda è legittimata a fare però dobbiamo sapere che questo avviene di nuovo io non critico come dire facebook perché o twitter perché appunto guadagna dal servizio che offre è un'azienda e anche la barilla guadagna dal servizio che offre dopodiché però dobbiamo essere molto consapevoli di quello che succede e di come succede e torno di nuovo al discorso quindi della consapevolezza della consapevolezza mediatica io credo che queste polarizzazioni siano in tutti i modi per così dire facilitate dal come funzionano i social poi è come se quando il gioco come dire sfugge un po' di mano arriva la censura ma fino a quel momento quel gioco era assolutamente strutturante proprio le dinamiche le dinamiche dei social per cui credo che questo sia un assoluto problema tra l'altro appunto di nuovo noi tendiamo a demonizzare i social e forse ci dimentichiamo troppo spesso che i media in realtà sono molto più interconnessi è un'altra delle cifre dell'ecosistema mediatico attuale cioè la televisione è condizionata dai social e viceversa e la radio i giornali insomma c'è un ecosistema mediatico in cui tutti questi elementi sono correlati quando è successo proprio qualche giorno fa un'intervista televisiva in un studio televisivo alla prima domanda vagamente polemica un dirigente della regione Lombardia ha preso e uscito beh quello è il classico meccanismo che su un social è normale cioè non lo noti neanche perché semplicemente tu non rispondi più e entri in un'altra comunità visto secondo me sul mezzo televisivo è abbastanza impressionante perché il giornalista non l'aveva né offeso né aveva espresso una domanda critica che insomma fin quando siamo in democrazia dovrebbe essere consentito e lui avrebbe potuto rispondere in modo assolutamente come dire anche difensivo di sé quindi semmai poteva avere un'occasione per legittimare la propria posizione invece ha preso andato via ecco io l'impressione e questo poi diventa drammatico naturalmente con i giovani che sono sempre sia il target più fragile ma anche quello più coinvolto in tutte queste cose che abituarci al fatto che se qualcosa non ci piace prendiamo andiamo via è veramente un problema serissimo del vivere civile non solo appunto del dei social quindi di nuovo bisognerebbe intervenire però quando io parlo di educazione del ruolo fondamentale che dovrebbe avere e per cui io ormai da anni sono attonita rispetto al fatto che invece questo non succede è anche perché io sono convinta che se in questo momento dieci persone ci hanno ascoltato quelle dieci persone penso che saranno d'accordo con noi cioè sono degli argomenti talmente evidenti se uno solo ci fa attenzione che è difficile appunto che come dire non non si riconosca il fatto che oggi tendiamo a certi comportamenti che oggi appunto facciamo un retweet senza pensarci e tutti lo facciamo perché ripeto nessuno escluso neanche io che lo sto dicendo in questo momento si tratta proprio di fare attenzione di dedicare un momento di attenzione a questo e come appunto nei percorsi scolastici tutto ciò possa ancora non entrare per me rientra nelle grandi distrazioni del governo ce ne sono tante ma questa è molto grave c'è stata una proposta di Salvini su Salvini se ho un minuto aggiungo una cosa perché è un caso che ho studiato e mi ha fatto ovviamente molto sorridere perché appunto lui ha proposto questa educazione social nelle scuole e comunque che la proposta venga da Salvini da chiunque venga ben venga naturalmente era diciamo che non è molto credibile fatta da una persona esatto interessante che venisse da lui e comunque ad esempio io l'anno scorso anzi ormai due anni fa a fine 2019 per quattro mesi ho studiato il canale Twitter di Salvini è stata una ricerca dura nel senso che seguivo con assoluta regolarità tutto il giorno il suo la sua comunicazione Twitter e mi sono resa conto poi ci ho anche pubblicato una cosa di quanto da una parte fosse una comunicazione assolutamente come dire ben fatta dal punto di vista comunicativo del controllo del mezzo e sappiamo che il responsabile della comunicazione di Salvini è uno dei più accreditati studiosi di comunicazione e quindi da una parte era perfettamente organizzata dall'altra era esattamente ciò che io ritengo appunto una comunicazione pericolosa ma non perché dicesse dei contenuti pericolosi ma proprio per la forma mentis che a cui ci abitua cosa faceva Salvini e me ne sono resa conto solo seguendolo tutti i giorni tutto il giorno perché lui twitta continuamente costruisce una perfetta sincronizzazione della vita del suo follower con la propria per cui lui si sveglia la mattina e dice bene una bella giornata di sole quante cose mi aspettano quest'oggi dopodiché ci sono per tutta la giornata dei twitter un po' più diciamo ufficiali relativi al suo fare politica per cui non so va in ufficio c'è una riunione oppure va in un cantiere incontra determinate categorie quindi in qualche modo c'è la documentazione di questo impegno politico e anche nel sociale elimina completamente su quattro mesi non c'è stato un solo tweet in cui lui fosse aggressivo verso qualcuno cioè dicesse lasciamo gli immigrati dove stanno che affondino faccio per dire adesso sto semplificando ma per lo più si poneva sempre nella posizione di vittima cioè lui era sempre quello che era attaccato oggi mi hanno graffiato la macchina ma io non ci faccio caso capita oggi mi hanno bucato le ruote le persone sono aggressive ma io per così dire li perdono tutto così fino ad arrivare alla sera con questi twitter che hanno anche un po' circolato nel senso che sono stati un po' presi in giro in cui si mangia il piattone di pasta in cui che è il momento proprio del relax twitter questi su quello che mangia che a me prima sembravano assolutamente ridicoli quando invece ho iniziato a fare questa osservazione li ho visti in tutta un'altra prospettiva perché appunto sono l'ultimo momento di questo percorso di giornata con Salvini che inizia e poi lui finisce la sera sempre con un messaggio quasi edificante una qualche riflessione per cui va a letto la sera e pensa perché dico menziono questo caso perché appunto che cosa fa Salvini in questo modo costruisce cioè rafforza sostanzia una identificazione con lui fortissima perché appunto la mia giornata finisce abbastanza per corrispondere alla sua mi ritrovo in una serie di suoi stati dalle energie del mattino e dai programmi del mattino alla stanchezza della sera e al fatto che magari mi mangio un dolce perché penso che me lo merito anche se so che mi fa salire il colesterolo mi ispira solidarietà perché appunto lui si pone sempre in questo ruolo di vittima che però perdona per così dire capisce e quindi è una forma di manipolazione pazzesca in cui che è tutta costruita sull'identificazione non sulla come dire sulla comunione di idee sì sulla comunicazione vorrei dire di idee cioè sul sottoporre in qualche modo un'idea un programma un'iniziativa ma proprio è il trionfo della identificazione e questo è un altro meccanismo che i nostri social come dire tavalcano e alimentano in modo molto molto frequente tendono a farci identificare con degli interlocutori che poi ci piacciono e che poi sposiamo senza più avere una capacità analitica appunto per cui la verità diventa la sua verità perché ci piace Salvini non perché effettivamente quella proposta ci convince cosa che naturalmente può succedere ed è bene che ci siano tutte le posizioni però un conto è appunto aderire convintamente argomentativamente a una posizione un conto è aderire perché mi piace Salvini che vive così mentre il meccanismo che viene alimentato è esattamente questo ecco sono tutte cose che se messe su un tavolo e spiegate secondo me potrebbero cambiare un po' la percezione del nostro modo di stare in internet sui social ma normalmente questo non succede speriamo speriamo di essere stati d'aiuto ai telespettatori per capire un po' di più del mondo che ci circonda io ringrazio la professoressa Lorusso grazie a lei per questa brillante analisi e alla prossima puntata di esplorare i confini di esplorare di esplorare di esplorare